Benvenuti in questo nuovo video, oggi rifaremo la piramide umana dopo un anno e mezzo Io ho aggrappata forte forte Rebecca sopra di me ed infine Elisa Dai, vediamo un po' se riusciamo Dopo un anno e mezzo No, vai a me Vai a me Vai Elisa Ti ho fatto anche quest'anno Finalmente ce l'abbiamo fatta fare Iscrivetevi al canale Ciao